Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Desktop V-Box Stealth 47. V-Box Stealth 47 4.0 GHZ AMD Quad Core, per la casa, famiglia, online, desktop, gaming gamer, PC, USB 3 computer includere Windows 8.1 3TB Hard Disk Radeon R7 260X2 Gran Bretagna Scheda Grafica 16 Gran Bretagna RAM 4.0 GHZ AMD Athlon 750K Quad Core Processore 16 Gran Bretagna OFF DDR 3600 MHz RAM 3000 Gran Bretagna Hard Disk AMD Radeon R7 260X2 Gran Bretagna Scheda Grafica Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.